Per noi il ruolo delle regioni è essenziale, è fondamentale. La politica di coesione, la coesione significa prima di tutto lavorare con gli Stati membri. Perché? Perché gli Stati membri sono i primi portatori di interessi, l'unione è un'unione di Stati membri, ma la coesione è una politica che ha le radici, le basi, le fondamenta nel locale. E allora, proprio per questo, ogni anno noi organizziamo, appunto, come lei ha chiesto, la settimana europea delle regioni, con l'obiettivo proprio di dialogare con ciascuna delle regioni e collettivamente con le regioni su quello che funziona, nella politica di coesione, quello che magari dovrebbe essere cambiato e quest'anno in particolare anche su un possibile, proprio una possibilità di riforma o cambiamento più a fondo della politica delle regioni, però, della politica di coesione, che però va sottolineato. È una politica che funziona, che ha funzionato e funziona molto bene. Guardate i nuovi Stati membri. Quando sono entrati nell'unione, avevano dei livelli di reddito che erano da metà, addirittura solo un terzo del reddito medio. Adesso siamo arrivati al 75%, se non di più. Questo lo indica chiaramente quanto funziona la politica di coesione. E, nonostante questo, io ritengo che possa essere ulteriormente migliorata. Per esempio, in particolare, lavorando sulla qualità dell'amministrazione, delle amministrazioni e delle istituzioni. Perché a me, in realtà, non piace parlare di soldi, i soldi della politica di coesione. A me quello di cui piace parlare, quello di cui dobbiamo parlare, è lavorare per dare condizioni di vita migliore ai cittadini, alle loro famiglie, per evitare quindi di trovarsi in situazioni di migrazioni, di instabilità e anche di povertà. Ed è per questo, fra l'altro, che nel mercato interno tutte le regioni sono proprio dei partecipanti essenziali, degli attori essenziali in questo meccanismo che è la coesione che serve a tutti.